anticipazioni tempesta d'amore mercoledì 10 febbraio 2021 linda non vuole più saperne di dirk che deve rendersi conto di aver perso per sempre le possibilità di riconquistarla quando lucy vede bella soffrire decide spontaneamente di lasciare a lui l'agenzia dice di non avere più idee e di non divertirsi più la herlinger vede il ragazzo felice e si ritempra capisce di aver preso la decisione giusta anche se questo passaggio non sarà per niente facile per lei la ragazza poi scopre che michelle deve partire e si chiede quanto sia seria la relazione tra la giovane e paul così si arma di forza e coraggio e si dichiara il lindberg resta completamente spiazzato werner e robert restano inorriditi quando scoprono che il loro hotel avrà un nuovo proprietario mentre arian è segretamente felice della buona riuscita del suo piano cornelia fa un passo molto importante che però non viene apprezzato da werner arian e carl sono sempre più in sintonia tra loro pieno di speranza l'uomo chiede una chance alla ex la donna però dovrebbe rinunciare al suo crudele progetto di vendetta per lui è pronta per tutto questo